Ciao a tutti! Buon Natale! E buon Natale con le LOL Surprise! Qui abbiamo la valigia LOL Surprise Bigger Surprise Serie Ice Pie Qua dice più di 60 sorprese Qui dovrebbero esserci le LOL con le parrucche, quindi con i capelli veri Va bene, questa è la valigia, è tutta rosa E c'è il disegnino della LOL Ok, iniziamo ad aprire Qui c'è la cemiera per la peccata Ecco qua, la valigia è rosa glitterata Qui si apre Andiamo via Questa volta è gigante E' così, all'interno è così Ah, look for secret clues Ah, si vede solo passandoci questa sopra Ah, ecco, si vedono Allora, dove qua ci sono le formine Diciamo, passando questo sopra si legge Qua sta scritto Yoho, unbox me Vabbè Ecco qua Quindi qua forse ci sono gli accessori con i vestiti E qua dovrebbero esserci forse le LOL Questa è una cartolina Vediamo Ah, c'è stato al contrario C'è stato al contrario, ok Allora, apriamo prima Le LOL Dopo gli accessori Apriamo prima le capsule Cominciamo dalla capsula Ok Dalla capsula verde Non so se ci sono le LOL Allora, questa è la capsula verde Allora, qui c'è la parrucca Vabbè, ho questa parrucca Tipo chi vi usa Ecco Con i codini Ed è tutta viola Tipo chi vi usa se lo è il numero Vabbè Apriamo questa qua rosa Quindi c'è un po' di tutto Questa è un'altra parrucca Questa con i codini Metà rosa e metà celeste Molto bella Tutte due molto belle Apriamo quest'altra rosa Ah, ancora parrucche Bella questa Tipo Lady Gaga Metà bionda Metà rosa Allora Ah, c'è un altro strato sotto Ecco, le bambole sono qui Ah, ecco Vabbè, alla fine Apriamo prima Continuiamo con questo Perciò era pesante la valigia Sono tutte queste capsule Questa è rosa fucsia Ma forse sono tutte parrucche Questa parrucca Tutta verde Bella Allora facciamo una cosa Ma apriamo le parrucche Apriamo gli accessori Riccia bionda Riccia bionda Questa mi piace molto Ultima rosa fucsia Mi sembra di stare in un parrucchiere Tutti due Allora, vediamo in questa fucsia Uno, due e tre Mamma, tutta riccia e rosa Bella Bellissime Bellissime le parrucche Se erano più grandi Ma le mettevo pure E niente Allora, questo punto Apriamo Queste No Faccio così Perché non so come sia Eh, apri così E questi sono gli accessori Ecco qua Abbiamo il cappello glitterato Eh, apri così Forse questi si deve aprire Ah, saranno tutte glitterate Questo vestitino rosa glitterato Oh, bello Tutina intera verde glitterata Questa va bene con il cappellino Poi abbiamo Una magliettina normale Un solo maglietta Un altro cappellino Rosa Con un po' di glitter Allora, abbiamo stivaletti Rosa Anche loro con un po' di glitter Hanno il tacchetto in glitter Questa magliettina bianca glitterata Pantaloncino abbinato Sempre bianco e glitterato Sempre bianco e glitterato Bella Minigonna a quadroni Che carine Scarpettine Verde Col cinturino Col tacchetto di glitter Poi penso è finito Non c'è più nulla Ok, fuori uno Allora Abbiamo aperto Accessori E parrucche E a questo punto Non ci resta che aprire Le bambole Oddio C'è ancora altra roba E dopo, dopo Apriamo un attimo le palle E' tutta sta roba Vabbè Allora Incominciamo Prima bolla Allora E' tutta rosa A può E sopra c'è il disegnino Della mano Allora Surprise 7 7 sorprese Serie Ice pie Ok E vabbè Qua dice pure qualcosa C'è scritto qualcosa Ci vorrebbe Dove ho messo Vediamo che c'è scritto Loop for secret clues Ok Perciò è pesante C'è tanta roba dentro C'è la pellicetta pesa La carta è durissima Allora Questo è il messaggino segreto E' durissima la carta Ci vorrebbero le mani di ferro Tutte le ho disegnate Stanno sulla carta Allora La bolla Penso che è verde No E' metà verde E' metà rosa La bolla E' giusto Pure per cambiare Tutto è uguale E' un'altra Qua di carta La prima ma a Natale Dell'anno prossimo Ultimo Olè Olè Metà verde E metà rosa Allora Vediamo Primo strato Vediamo Che cos'è Scarpette Ah Quindi escono anche Cioè Oltre agli accessori Che stanno là Anche i vestiti Come è bello Il biberon Che bello E qui dovrebbe esserci Il vestito E' una vestaglia Un appappatoio Una vestaglia La prima volta Che Questa è l'accessore Lo pensavamo Gli occhiali Ah Per la prima volta Vedo occhiali glitterati Belli E vediamo La camu Che abbandona Che esce Qui dentro Com'è È glitterata Mi piace dietro L'abbigliamento Intimo Pure la giarrettiera Ma no Troppo bella Sei bellissima Vabbè La metto così Non si mantiene Molto carina Particolare Diversa dalle altre lol Pure come taglio Di capelli Apriamo quest'altra bolla Ah Questo è l'animale Un attimo Allora abbiamo Ok Due bambole Un animale E un neonato Allora apriamo un attimo Prima le due bambole L'animaluccio Lo teniamo per ultimo Tutto un po' Perché se no Non c'è più spazio L'indizio Che è uguale a quello di prima Vabbè Che è sempre La stessa serie Tutte le lol Disegnate Ho l'impressione Ci sia più carta Su queste Non lo so L'impressione è mia Anche queste Metà verde Metà rosa Ecco qui Iniziamo da qui Pantofole Pantofole Che bello Che bello Questa Tipo lattina L'abito Anche questa è tipo Accappatoio Non so Con Intimo Intimo Con l'accappatoio Non so Una vestaglia Allora vediamo un attimo L'accessore E poi dopo Vediamo la bambola Anche lei porta gli occhialini Glitterati Beh però Potevano fare Cuccio a qualcuno Con i miei Cucciottini Ah questa è bionda Ah sembra Con i capelli corti Così Ah perché queste Devono essere Mestre le parrucche Ciò c'hanno i capelli corti Pure con la giarrettiera E il body Porto il body E i capelli corti Perché loro Dovranno mettere le parrucche È vero Però vi hanno fatto glitterati Stiamo in un po' più Complay Ecco Allora apriamo la neonata Questa è la Little Sister Sempre della serie Questa qui è Ice Pie Vediamo un po' La neonata com'è Però la neonata La parrucche Non ce la possiamo mettere Allora Questo è l'indizio È uguale a quello Solo che c'è sopra Disegnata la neonata La piccolina Anche questa bolle Metà rosa e metà verde Eccoci qua Eccola Allora Apriamo dall'accessorio Borsa Che poi è così grande Che è per le amiche sue Ah sì Questo è il gancetto Che si mette nella palla Sembra una lenta Sembra una lenta Di grandimento Boh No Un ciongolo a metà pizza E infine Vediamo la bambolina Miniatura Miniatura d'epoca Tadà È uguale a questa Solo che è piccolissima Ingrediente Eccola qua È uguale a lei E adesso Adesso dobbiamo aprire LOL Surprise Pets Il loro Animale domestico Qua fuori c'è Il disegno di un gattino Potrà sapere un gattino All'interno Anche sul messaggio Segreto c'è il gatto Vediamo Anche questa bolla È metà verde E metà rosa Non faccio tutto uguale Solo che sulla carta Fa vedere gli animaletti Ecco qua Ecco la nostra bolla Allora Eh Va bene Il gancetto Va bene Questa è la sabbia Mettiamo qua la sabbia E apriamo Le bustine La scatola della pizza Perché dentro ci dobbiamo mettere la pizza E questa me la mangio io Metti qui La scatola della pizza Quella sa che a me piace la pizza Perciò prima ci diciamo La forma di pizza Vediamo Ah beh Questa è la palettina Per Sarà un gatto sicuramente Che pure la paletta Ha forme di gatto Il biberon Ha una forma di busta di latte Molto caruccio Ed è anche C'è anche il ciuccetto Sopraglitterato Ah beh Questo è Ah ecco Perché si deve vestire Verrà vestito Questo è il vestitino suo Anche glitterato E vediamo Sicuramente sarà il gattino Come fa vedere fuori Sì È glitterato Bello Eccolo qua Tutto glitterato C'ha i capelli C'ha i capelli glitterati Vabbè Si dovrà vestire con Il vestitino che è uscito Sarà molto carino Vederlo vestito Allora E adesso dobbiamo vedere Un attimo Tutta sta roba qua Che cos'è Che cos'è sta roba Che cos'è E' uno scherzo Che cos'è sta roba Ma che Ma che E' uno scherzo Che cos'è Cos'è sta roba Ma si apre Ma non lo so Cos'è sta roba Cos'è sta roba Che cos'è sta roba Che cos'è Ma che cos'è sta roba Ma forse Ma forse sono capelli Ma forse sono capelli Cioè Ma che si serve Ma forse sono capelli Ma che si serve Ma che cos'è sta roba 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 Come si mette Tutti gli accessori I vestitini Le parrucchie molto belle Quest'altra roba Che è uscita Non so cosa sia Va bene Ecco qua Questa è la foto Di famiglia Ok Io vi saluto Al prossimo video Spero vi sia piaciuto È stato un po' lungo Lo scarto Ma era tanta roba Un bacione Alla prossima Ciao ciao